Benvenuti ad Algoritmia. La città dove la vita scorre serena. E questo cos'è? Il mio nickname. E come mai non siete connessi? Non vi troviamo su nessun social. Non sappiamo niente di voi, delle vostre idee. Non abbiamo bisogno di un computer per respirare. O di essere iscritti a un social per innamorarci. Il famoso Leonardo. So che sei. Da questo momento, per comunicare, dovrete utilizzare queste tue tavolette. Così tutto quello che vi direte verrà inviato al sistema centrale. Questa è la mat-sfera. Luogo in cui abitano numeri, formule, teoremi. Salve! Sono pievangelo boeco. Per gli amici big boeco, per gli amicissimi basta solo p. Sembra un quadro. Non si può capire la matematica senza disegnarla. Parliamo di te e dei tuoi amici. Come vi chiamate? Foolish. Ma secondo te questi foolish sono matti o cosa? Non lo so. La cosa più inquietante è che sono impredibili. Suppongo che tu non sappia chi sia Cartesio. Hai immaginato uno spazio geometrico costituito da tre assi perpendicolari tra loro. La musica obbedisce a regole precise. La musica obbedisce a un bisogno dell'anima. È matematica per le orecchie. Siete come tanti Icaro. Volete volare troppo in alto e finirete per bruciarvi. Sei ricercatissimo. Te l'ho detto che andiamo di moda. Ah. Eh ehт. N filmare Chapter 2